Piccolo contraccolpo per la scuola primaria italiana, arretrano le competenze nella lettura e comprensione del testo degli alunni di quarta elementare. Nel 2011 siamo tornati ai livelli del 2001, complice il peggioramento delle performance delle ragazze. Al contempo però scatta il miglioramento in matematica alle medie. Sono i risultati di due studi dell'Associazione Internazionale per la valutazione della preparazione degli studenti realizzati in 45 paesi. In Italia sono stati coinvolti più di 4.000 studenti della primaria e altrettanti della secondaria di primo grado. Guardando i risultati relativi al nostro paese si evidenzia che l'Italia consegue un punteggio di 541, significativamente superiore alla media internazionale in lettura, mentre in matematica i nostri studenti raggiungono il punteggio di 508, anch'esso superiore alla media internazionale. Gli studenti che raggiungono una migliore performance sono quelli di Singapore, Repubblica di Corea e Hong Kong. Ad essi seguono Taipei Cinese e Giappone che ricoprendo le posizioni più alte confermano la tendenza dei paesi asiatici ad ottenere punteggi più alti rispetto agli altri.